ha fatto quel che doveva fare bro già tanto che abbia fatto Petra purtroppo infattibile a quanti 3 siamo? 8, più di 2 ora vediamo Spiritum Psywave, Razor, Wind, Adaptability vediamo allora, Razor, Wind provo a provare Psywave Elinguish che cazzo fa? user feints, è una roba Elinguish quanto mi ha tolto? No, forse un altro lo reggo, però è una Psywave oh, è un incubo sta roba ragazzi, cioè, ti giuro che è un incubo sta roba nice, bravo Lab è un bidone sto Pokémon, eh, però è veramente un cesso sto Mon però almeno ha fatto il Lab e ora ci consente di pegliare qualcosa nell'erba, no? Sorrock matto? puzza se era Psybeam si poteva trastarsi ma Psywave fa merda tra tutto penso sia bugato il tracker non penso abbia sento a cura se Psywave oh, yes si, è un bug grafico oh, sta erba qua mi sono rotto il cazzo tanto non c'è nulla e c'è questo che mi fa perdere un fracco di tempo è buona, quindi bella Wario no, 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 no qua li ho visti tutti in realtà cazzo pensavo di me ne incasse uno cioè, in realtà ci sta a prendere l'Octillery, eh provare l'Octillery non è male si, si, non è male c'è anche il Flygon però, boh vediamo sono in tempo per gufarsi sono in tempo per star zitto, Reng ti ha dissato gioia prima, Reng Harry Kane puzza questo puzza un po' troppo proprio puzza un po' troppo questo puzza ma in un'elevata quantità potrei provare la Harry Kane esatto cioè, lo prendo il Pill o Swine giusto per provare a prendere poi l'Octillery giù con un po' più di Speed se è buono lo potrei anche trastare ma dubito porco Dio disumana sta roba beh, sorvoriamola potrei provare a catturare nell'erba più in alto in realtà un Pokémon e puoi venire qua per Octillery ha senso sì, probabilmente sì si presupponeva e si sperava avesse un po' più di di Speed però ok buono oh minchia però questo non è male non è male però non è neanche buono solo Water Spout proverai Locktillery all'otto se non lo trovo entro due minuti stecco e tiro dritto non mi da un cazzo la gang solo che ha suo Water Spout con 20 HP e 9 di special quindi alla prima speciale che ci fanno muore questo è un Pokémon High Glander Stocktillery è un High Glander Stocktillery quando ero ragazzino ma vaffanculo cazzo però figlio di puttana qual è il futuro bella bella quale il nome mi conosce dai non fare il chiacchierone ti richiamo dopo amore mando a casa a costiera persi un minuto per favore non so se lo chiudeva il pack lì quindi nel dubbio gli stecco con questo Dragon Rush dai via c'è voglia di Iron Tail no non è buono questo potrebbe dare emozioni vediamo è un Pokémon questo era velocissimo del pack secondo me ha poca specie cioè ha poca difesa ok non ci credo bro che robata schifosa questa però io l'ho steccato sto trainer che robata schifosa bro disgustosa questa questa disgustosa bro questa disgustosa veramente disgustosa mamma mia imbarazzante Groudon non lo posso prendere si può fare un'eccezione proprio per una volta Teicol Thick Fat Magost Berry Boi Nuti Teicol lo facciamo ma non dovrei morire da un altro hit tecnicamente però se lui lo continua a fare non l'ho miso una volta vabbè è un pro e invece e invece bro e invece sta zitto Renga che oggi ti licenzi nozio cane coccodrillo all'otto vieni dal papi subito 24 HP Mega Horn Rolling Kick ci sta a trastare questo ci sta a trastare questo boh in realtà non lo so se trastare mosse un po' di merda però abbiamo un'ora e 59 siamo a 9 try c'è anche da dire che abbiamo fatto tra i no rischio di morire nell'erba oltretutto trastare qua magari ti pull i trainer pre bosco c'è anche quello solo sono dei punti o magari non ti pull un cazzo perché becchia incontro Magmortar col nuts classico può frinciare lui a titolo informativo perché il mio cognome è Fendi boh forse ci stava ci stava a scautare non lo so ci stava boh secondo me ci stava anche trastarlo quello lì era letteralmente un 50-50 Venoshock Swift questo non è un brutto mon è lento ma non è terribile se uscisse shadow dipende quanto i danni mi fa lui che sfiga cazzo qui barassing era difficile passarlo quel Magmortar si vabbè probabilmente si era difficile con ogni con ogni cosa aveva pure stormthrow ok clon drillbur lupunni oh body slam magic guard cosa faceva pure ho guardato di ipnosi body slam diretta secondo me è meglio body slam diretta lab lab fatto buono il trentesimo lo dobbiamo giocare di try perché abbiamo startato dall'uno ho visto che qualcuno ieri da delmo quando ho visto un attimo delmo gli rompeva il cazzo cos'è che ha fatto non ho visto che mossa ha fatto comunque lo prendo mad bomb rivali ma rivali senza sesso cosa fa cioè ti debuffa sempre com'è che funziona o non funziona proprio non lo so di preciso poi lo cambia perché lo cambia probabilmente c'è tanto voglio dire non c'ha oh rare candy potremmo fare un evoran con la friend se la becchiamo dragon rage minchia buono questo lo trusti con dragon rage non è male sicuramente dragon rage lo trusti cioè è buono che abbia dragon rage la carria gli do anche la rare candy prima così stiamo over level andiamo un po' più di vita intanto secondo me dobbiamo massimizzare i punti usiamo anche la candy subito che cazzo ce ne frega eh lo so levoran però devo scautare non è detto che trovo il pokemon poi questo magari crepa al primo eh nel senso non lo so però dico magari questo te lo fa il bosco con dragon rage no volt switch eh volt switch no no una merda pura bannata fatica più 400 punti tutti i treneri del bosco senza ok la curiola la faccio ora perché mentre che mi servono i bp che uno non muore c'è softboiled o cagate almeno sono mai visti se non parli di soldi tornados per dire non è un bel encounter da fare ti dico non è subito un bel encounter da fare tail glow meglio di twin needle probabilmente magari torna utile tail glow dopo non lo so anche perché ha una certa quello dovrà provare a far sto mon magari impara delle speciali tanto twin needle penso sia inutile punti pre bosco set in cucina chiamaci cyborg non parlo con le guardie ci pensami avvocato avvocato ma che discorso stai facendo cannone cioè hanno finito i try ogni tanto alcuni di voi mi sembra che abbiano la 104 lasciatevelo dire per favore cioè ogni tanto veramente cioè cose che non hanno senso cioè tipo commenti tipo 2 più 2 fa 5 boh ti giuro certe volte mi sconvolgete non sto scherzando è incredibile cannone uno che in realtà spesso mi sconvolge dalle cazzate che scrive eeeh 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 no no porco giuda ground type lui è oh mamma che palle sta roba non posso usare le dragon rage bro perché altrimenti non ne ho abbastanza per fare i trainers già secondo me queste non bastano cioè effettivamente c'è un etere però le posso usare puoi pullare l'etere nell'erba effettivamente se voglio non ce l'ho una una leppa però vero no la leppa no purtroppo eeeh la proviamo a tenere per brocca la roba o la usiamo secondo me è da usare c'ho poche difese vero che c'ho molti hp però ma potremmo provarlo a fare questo ce ne ha due al 14 fra e uno al 18 oh mamma quanto mi ha tolto meno no di il punto è che ho bisogno di steccarlo però non so se lo stecco facendo tipo fusion bolt water gun qua secondo me non lo stecco mica tirando una di quelle due o si boh water gun beh cazzo una 40 power è al 18 no no non lo stecco mai qua devo fare qua secondo me water gun non kill ragazzi posso provare ma io ho paura che non kill invece si ok buono closely perché ho 20 d'attacco cioè non è che ho tanto d'attacco dragon rage fusion bolt vai buono fusion bolt ok trainer qua anche perché non avevamo out se non provavamo a far aldarla allora bosco smeraldo fatto vai let's go 300 300 300 300 300 pin up berry energy powder buono max pozzo ok ice stone casi potrebbe pullare petra in un mondo ideale abbiamo un etter abbiamo la max pozza e altre robette vediamo prendiamo l'item in alto gli diamo una berry da tenere ora poi valutiamo dragon rage può benissimo non bastare ma abbiamo l'etere faccio dragon rage tanto cioè nel senso l'etere lo devo usare qua a una certa lo dovrò usare forzatamente quindi i pokemon a 17 ogni pokemon servono almeno due dragon rage quindi vediamo secondo me è dura molto dura però vediamo non mi toglie granché secondo me l'etere è vero che me ne dà solo 6 però è un buono spot per provare l'etere non posso secondo me mettermi a farti il glow è una stronzata ragazzi cioè lui mi fa focus punch cioè mi ammazza se faccio tailglow l'avete visto buono questo porco dio dragon rage eh fusion bolt e rischio l'aftermath no quando me devo fare dragon rage puoi curarmi a quello dopo max pozza aia porco dio però che mi stecca quello il 23 cazzo di poco peccato era un bidone questo stava per far vetra però che sfiga cazzo tutti la super f madonna abbiamo beccato due focus punch quello che aveva l'altra e l'ultimo che aveva attack order di poco peccato qua questo stava per pullar vetra anche lui raidon rayorn sorry dodici minchia siamo indietro con i try però vediamo vediamo adesso round questo valbar quindi mi sa che non si pone il problema con lui guard è buono bulldoze ghigliottina kiever dance proviamo una bulldoze matta anche perchè ghigliottina non può andare a segno quindi per forza bulldoze matta però il punto è che non gli leverò un cazzo e lui invece si invece si quiver magari resisto poi mi curo esatto ma non penso di potercela fare comunque anche perchè se lui non è missa uno bro è dura è dura se lui non è missa uno è dura no no si siamo in media con i try eh si devo considerare che prima ho fatto quasi sempre autoflab quindi diversa la questione drapion vai head smash controchia pure paras molto bene bravo tanto fa il lab che è buono sto pokemon purtroppo è un bidone perchè non c'ha fa cagare sta roba è al 6 non c'ha mossa è un bidone shiny stone no lui servirebbe una bella ever rank alla friend che sfiga il cazzo stava per far l'out of sul serio lì la tip mannaggia dios awakenings la zebra c'è il regolamento non mi sembra complesso basta vedere timer e roba schermo punto esclamativo torneo ci sono le info dei vari punteggi delle cagate varie bella bro provare l'ambipom idealmente oppure lo scraft lo scrafti lo scrafti matto un bidone un bidone proprio di quelli proprio bidoni bidoni non un bidone di quelli bidoni ma di quelli bidoni 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 bottle cup awakening iron come la roba su netflix dei non mi ricordo come si chiama quello lì a tempo che non volevo andare qua ovviamente volevo andare nella grotta di ghiaccio qui electros blind vai incatturabile electros 48 hp qualcosa mi dice che non sarà un grande mon oh però in realtà è un bidone però può può far punti quasi oddio far punti in realtà è veramente brutto questo se ovesse 15 di special a 12 ho visto dopo poi vorranno però al 22 però quando mai ci arriva al 22 quel bidone qua chi è che c'era oltre questi load red blitzel in basso l'ho già catturato no vero no mi pare qua chi è che c'era a poliweer madonna che bidoni porco giuda vediamo diamo una scautatina ancora ancora due minuti possiamo scautare secondo me lo so che non impara mosso ma chi se ne frega questo qua lo sto trovando in ogni singola run comunque non vorrei dire ma stai capo è una merda oh sid flare stab madonna buono questo quello all'otto fra voglio sperando che non abbia perso sid flare buono sid flare stab su quello ma ha tolto pure un fracco cioè era il 3 ha tolto 6 21 di special proviamo il il coso all'otto sperando di trovarlo scatiamo un attimino sperando che non l'abbia persa è incatturabile questo tipo questo c'era le mosse non toglie tanto neanche poco ha perso ovviamente l'unica mossa che non doveva perdere però lo trasto lo trasto perché lo devo trastare questo di là non c'è un cazzo vedere il quinto lì mi sembra una stronzata oggi è il giorno delle rom dei saucebook cioè letteralmente ne sto trovando a manetta fra se vabbè ciao hello auguri servalo sire vediamo vediamo camera sul tepic dai dico magari esce scratch che non è sketch hyper voice la fai dai bro che sfiga forco giuda imbarassi sta roba c'è veramente mamma mia infatti l'ho cambiata rinpe prima che tu lo scrivessi ci si alletti nella mente rinpe vedi that's how it's supposed to be oh poi ti ho trovato nell'erba dai però sei uno stronzo e lasciatelo dire mamma mia che porco subito clamp mamma mia che schifoso che schifoso non so se cercarlo a lot secondo me lo trust al 5 cioè lo trust al 5 lo metto al 5 perchè è più veloce cerchi un'altra erba è veloce almeno questo cioè non è neanche male però al 5 non è buono neanche ha speed solo che lo cambio perchè ha più speed l'altro camera crepava la prima acqua di un pokemon a livello umano gorebis si può provare all'8 più veloce lo prendo più veloce lo prendo a prescindere poi madonna questo era anche buono di staz ma quello del video di youtube dell'altro giorno di gorebis però questo non è buono però c'è il discorso è quello non ha mosse speciali icicle spear fisica sword dance spor madonna che cessi allucinanti cazzo ragazzi per ora marimperior puoi riprenderlo all'8 no avendo trastato quello al 5 no 29 di speed cioè tocca provare poli ragazzi ok forse no allora explosion più un'altra merda forse trasto questo non è bellissimo però faccio sword dance icicle spear provo a 0 attacco e c'è la 2 mosse del merda quello quindi boh tepigh voran mi sembra questo se ti va fatta bene i trainer prebosco te li pull almeno se impara una speciale al 13 ti fa ti può fare pure quelli dopo secondo me il discorso è quello se ti impara una speciale al 13 ti può fare il bosco questo magari Samau almeno quelli prebosco li fa forse posso fare più di 2 hit grazie madonna ragazzi però che sfiga porco dio non ha effetto vero invece si più veloci di me spill cioè più pesa più di me spill pesa più di un cane enorme un cazzo di palletta di ghiaccio ma dove cazzo siamo finiti che senso c'ha fra boh assurdo war dance questo ci bebbiava ogni pokemon a voglia 15 try mancano ex cadrill vediamo sto un tempo smash 22 d'attacco però ero più veloce io vero molto bene bello deino al 30 bro cioè lo prendo perché è più veloce però sucker punch bidone però almeno scout regolare Texas para para wish più veloce di me al 22 oh i podon vai il pokemon preferito da flamingo un bidone però madonna che cesso c'ha mossa potrei anche trastarlo sperando di impari uno al 13 però non penso alla play aquenza smurf copia fa il copia e colla dei messaggi di chi è la 104 il grosso il grosso pesce fangoscio lo provo blind bro via com'è sta roba un cesso vero dov'è che non ho catturato però 26 di speed quindi almeno scout dov'è che non ho catturato giù giusto solo mi pare qua solo che per ora c'era la merda sbaglio eh si l'obrobri c'era qua per ora solo che trastare questa non mi sembra una grande play ti dico la verità sembra veramente un bidone è vero che al 9 impara vari modi quanto modi impara pure lui al 9 svariate no pezzati clamorosi shwello all'8 ci può stare vediamo adesso tocca per forza c'è altro cioè è facile essere meglio di sto cosa come anche si può essere peggio non dico quello però questo è meglio questo è un pokemon un bidone onesto bro il pesce non è malino però come non era male era un cesso allucinante ragazzi cosa aveva di forte quello wish cash letteralmente la speed era buona stop era orrendo bro quel robo molto 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 classico se posso magari non rifa Tibalt magari infatti volte sono morto meglio così sì sì però minchia non posso beccarmi porco Giuda aia volevo provare Brina ma non so che senso abbia oh madre no sono morto fra giraci type lotion giraci con le mosse più stronze mai viste fra Wazgonski la torment non cambia un cazzo sicura poi dopo la rifaccia cosa cambia far torment lì madonna questa se uscisse porco Giuda questa non è male uscisse non uscirà però se uscisse non sarebbe male e invece esce cazzo questo è buono porco Giuda questo questo è sontuoso fra esce anche livello alto oltretutto questo non è male questo bro tira dritto questo è carino a che livello sto al 9 e quanto è al 10 poco non ha senso usare la Candy qua penso comunque ne aveva d'attacco quel Rayquads Acrobatics mi ha lasciato a vita rossa e voi infinite difese speriamo che Shadow Ball è buono su questo 29 di Shadow Ball buono 11 please porca troia come sta andando per ora ti dico va ok il momento va ok vediamo siamo neanche a metà però lunga dai che coglioni però sta roba porco Giuda non mi va di setappare qui dai mo c'è madonna sono dei pokemon a livello è incredibile a stardi quello è un hp vuol dire che ha pochissimi hp quel pokemon è vero che il stardi di cosa si è vero era una mossa con power level molto alto questo è male qua la devo fare una tailglow secondo me ok molto bene ok shadow balling shadow balling 29 29 sono eh roll ah ok speed tie buono molto bene trainer pre bosco fatti 350 buono come stiamo messi con la ok a che livello era zabdus al 9 eh zabdus era un killer qua certo che ragazzi basta far domande stupide veramente non se ne può più eh minchia cioè veramente c'è anche il messaggio pinnato che lo dice cioè per cortesia io non capisco cioè quando uno entra in live come fa a non cercare il messaggio pinnato e le cose prima di scrivere lo stesso commento ho scritto 3000 volte questa è una roba che mi sono sempre chiesto veramente cioè mi sembra assurdo vabbè grimer buono già arrivato qua a Wesa guffare sempre Delmo è sempre lì fisso e zitto del Mianzo ti ho visto ieri alla fine ci organizziamo poi ora che ci si becca ho voglia di beccarci Delmons boh il Shadow Ball secondo me più a cura si tanto shot anche quella quanto cazzo è forte sto coso oddio quindi ha poca special defense quello è il problema di questa è il grosso problema di quel Pokemon è quello infatti la prima Shadow Ball che ci hanno fatto ci ha tolto metà vita da un Pokemon 6 livelli in meno perché speciali le soffriamo qua sarebbe da provare una Tail Glow qui sarebbe da provare una Tail Glow vi dico la verità a che livello siamo secondo me proviamo dopo la Candy vero si spera che vada bene dopo secondo me ha più senso provare dopo voglio provare una Tail Glow qua forse un'altra nel dubbio mi ho tolto due un'altra per essere sicuri cioè bro mi sta facendo i shizzer aia questa è brutta faccio Shadow Ball tanto shot eh la cura si diminuita è una merda però se hit ho almeno shot ora dai cosa ho fatto Bosco Smeraldo più 20 good vai waterstone lamberry buona gliela diamo molto bene sono un po' under per la pale sì ma c'ho il coso provare a fare il primo trainer dopo usare la Candy mica se sto under sto un bel po' dovrei essere al 20 tipo c'ho la Candy però io non la userei subito la userei dopo il primo trainer c'ha più senso ovvero secondo me oh porco Giuda ok sempre Pokémon normali becchiamo all'inizio noi ha senso provare una pozza matta su questo secondo me una pozza matta su questo possiamo andare zinco è vero minchia dopo che sto giocando di fretta perché c'è di fretta devi la pozza su questo secondo me è l'unica cosa mi ha crittato però almeno overall di vita sto più alto di quanto stavo dai che palle ok serve da provare a fare sto trainer dopo usare la Rare Candy di allo zinco ora proviamo a fare questo poi Rare Candy secondo me idealmente la cosa più sensata madonna mia porco Giude questo è pesante che cazzo di special c'ha solo che vabbè qua la uso però per massimizzare chiaro che non è bellissima però la uso è comunque worth per provare a fare i punti mi serve un Pokémon che mi faccio fare la Teila qua madre più 6 buono ok giù 1 dai però bro mamma mia cioè più 3 più 4 l'asso l'aveva già sceso bravo cazzo buono porca troia Petra in 4.50 dai cazzo buono 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 water push mika sable fortissima mamma mia fortissima sta roba fortissima sta roba però focusato capo l'ho catturato questo no ah no 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 ok merda che pezzo ragazzi forever castoro 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 ti stecco cazzo ho bisogno del pezzato bro qua però io devo alzare il pezzato ragazzi perdo qualche secondo ma devo alzare il pezzato per forza godo che c'è la lampa perché madonna mia che cazzo sto porico ma che è sta roba fra special ebro buona la citrus buona la citrus ho il gatto buono mi rado da tenere la citrus perché tanto contro i trainer non vuoi rischiare di morire per degli status contro i trainer qua la 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 ma ha he's like a free na 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 no he's not forever doe da morto porco giuda però bro Madonna che sfiga ragazzi Disgustosa questa Quanto mi ha tolto lui? Meno no? F F perché il mio cognome è Fendi Che robberi madonna